La tecnica che presentiamo oggi è un nuovo intervento per ernia inguinale sviluppato da mio padre Antonio Guarnieri. Questa tecnica prevede di effettuare l'intervento senza l'uso di protesi. Vengono effettuate una serie di ricostruzioni del canale inguinale in maniera tale da rinforzarlo e di mantenere la fisiologia del canale inguinale. Questo tipo di intervento che vediamo oggi viene eseguito alla clinica Guarnieri, struttura convenzionata con il sistema sanitario nazionale, perciò accessibile a tutti i cittadini. Questa tecnica ha per principio quello di modificare l'anatomia di un canale inguinale difettoso per ripristinare la fisiologia di questo canale senza l'adozione di protesi che oltre ad essere un rinforzo può essere anche dall'altro lato fonte di complicanze. Questo intervento viene oggi realizzato in anestesia locale per rendere il paziente il più autonomo possibile subito dopo l'intervento e per permettere un'analgesia che dura anche al di fuori dell'intervento stesso. L'anestesia completamente locale consente al paziente di mangiare subito dopo l'intervento, di camminare e di fare tutte le attività normali.